e bentornati su una nuova puntata di big news qui dagli studi di radio bocconi come potete vedere dietro di noi io sono ale di fianco a me c'è garo insomma era un po che non facevo l'introduzione beh benvenuti e devo dire feel special con questa nuova inquadratura ragazzi poi dovete farci sapere se vi piaccia o no tanto tanto impegno ci abbiamo messo fateci sapere tante prove insomma siamo arrivati a questa inquadratura e insomma commentiamo un po i fatti dell'ultima settimana e i fatti più caldi diciamo il primo di cui dobbiamo parlare sicuramente le elezioni regionali che si sono tenute in sardegna nella giornata di domenica e insomma perché sono così importanti anche a livello nazionale per anche per chi non vive o non frequente insomma la sardegna ma perché ale caro ale un anno e mezzo che questo governo di destra in carica ha sbaragliato quasi tutte le regioni sbaragliato nel senso la coalizione di centrodestra che fa capo ai partiti di maggioranza al governo beh queste elezioni in sardegna hanno visto per la prima volta emergere il campo largo come potenza vincitrice cos'è il campo largo campo largo insomma è l'alleanza delle varie compagini di sinistra soprattutto i due principali partiti ovvero il PD il partito democratico il movimento 5 stelle che tramite appunto la persona di alessandra todd che è membro del del movimento 5 stelle è riuscita a vincere tra l'altro non è bene anche parlato fuori onda ma sarà la prima presidente di regione proveniente dal movimento 5 stelle si è anche donna dice dice anche la prima presidente donna di regione della regione sardegna però lei è stata una figura molto interessante per poi magari parleremo meglio però è un passato da imprenditrice un passato da lei ha conseguito la triennale in scienze dell'informazione ma poi si è specializzata in informatica ha fondato un'azienda di sviluppo software per energia green adesso era era insomma è questa la descrizione che poi è stata acquisita da da un fondo americano per cui insomma anche un passato da da imprenditrice e infatti è stata eletta come tra le 50 donne più interessanti in ambito tech e diciamo di innovazione quindi insomma un passato da imprenditrice se per la prima volta che si candidò all'europea non è stata eletta non fu eletta questa volta invece è stata eletta come primo presidente di regione ed è interessante femmina di regione sardegna è interessante perché la sua campagna elettorale si è incentrata sul noi lui lei ha sempre portato avanti questa idea del noi proprio per fare riferimento no quel concetto del campo largo che non abbiamo mai visto adesso se non se c'è serrammento bene a trento nelle comunali di trento ma a livello diciamo più ampio in quanto aventi diritto di votanti non l'avevamo mai visto quindi no è vero ed è una lezione insomma sia per la sinistra che per la destra ho visto stamattina gasparri diceva non dobbiamo sottovalutare la sinistra secondo me intendeva quando la sinistra non si mette i bastoni tra le ruote da sola insomma può contrastare il lo strapotere della destra che è stato negli ultimi anni a livello regionale nazionale sappiamo che insomma i casi municipali sono un po diversi ed è un colpo anche per la destra non forte diciamo comunque da considerare non metterà secondo me in difficoltà il governo però insomma c'era stata una lite prima su chi sarebbe dovuto essere il candidato della destra perché c'era il presidente uscente solinas in quota lega che appunto era era insomma preferito da matteo salvini ma fratelli d'italia probabilmente forte del consenso nazionale che ormai è il doppio il triplo della lega aveva imposto invece il nome di truzzo al posto di solinas questa è stata una decisione che evidentemente non ha pagato nonostante il candidato di destra comunque abbia perso di poche centinaio o poche migliaia di voti adesso è il conteggio non è ancora finito però insomma la sembra che fratelli d'italia abbia voluto fare la voce grossa nella coalizione per la prima volta perché comunque dobbiamo dire ha avuto solo successi negli ultimi due anni per la prima volta non è non è andata bene tra l'altro altro fatto curioso e dal 2000 era dal 2015 che la sinistra non vinceva una regione strappandola alla destra cioè la sinistra è rimasta al potere in emilia romagna in toscana e in campania i fortini rossi esatto ma campania la campagna esatto era era nel 2015 che de lucas trappò la campagna alla destra ma insomma era solo in queste tre regioni senza considerare poi l'alto adige che ha sempre un discorso a parte quindi è un risultato importante sicuramente schleine conte quindi il leader la leader del partito democratico il leader del movimento 5 stelle ora sanno che almeno in alcuni contesti se si uniscono possono vincere e è una consapevolezza che prima non avevano perché prima probabilmente potevano anche permettersi di dividersi dicendo vabbè tanto probabilmente non vinciamo adesso unendosi e anche grazie alla figura di una persona che sicuramente è competente ecco non è stata anche vice ministra dello sviluppo economico nel governo draghi insomma qualche cosa insomma possiamo dire che almeno dal suo curriculum sembra sembra saperla e infatti io su questo scusami se ti interrompo ma sono sono d'accordo però in parte perché dipende tanto a livello regionale o comunque dove le circoscrizioni sono di più dal candidato di spicco perché sono elezioni ancora un po personalistiche mi verrebbe da dire quelle a livello municipale a livello regionale si vota tanto il candidato piuttosto che la giunta in sé mentre invece magari a livello di governo si tu voti una coalizione se c'è che poi insomma ai suoi ai suoi esponenti in parlamento comunque sì 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 sono d'accordo adesso per per essere un po più precisi sui sui sondaggi sui sulle percentuali abbiamo visto l'ultimo sondaggio di dire tecnè abbiamo si vede che fratelli d'italia raggiunge quota 28 per cento seguita dal partito democratico al 20 il terzo partito il movimento 5 stella 16,1 questo a livello nazionale scivola un po più indietro forza italia a livello nazionale 9,4 e la lega stabile all'otto virgola due quindi è un insomma un buon messaggio di speranza per la coalizione per il campo largo per la sinistra intesa in senso in senso ampio e non includendo ricordiamolo calenda e renzi ma includendo la l'ala un po più di sinistra del dell'aspetto parlamentare che è quella di alleanza verdi e sinistra sì assolutamente no è sicuramente un dato da non da non sottovalutare e anche appunto azioni italia viva comunque possono portare voti alla sinistra soprattutto azioni in alcuni contesti e adesso si entra insomma nel vivo della campagna anche elettorale a livello europeo in cui si vota col proporzionale quindi c'è meno voto strategico e saranno anche le prime elezioni post morte di berlusconi diciamo che forza italia storicamente a livello europeo è molto forte perché fa parte dei popolari e insomma è sempre stata al governo dell'europa e quindi sarà sarà un altro test soprattutto per la lega che rischia molto e fratelli d'italia che è un risultato che può andare in due direzioni una molto positiva perché se riuscisse a diventare il quarto partito a livello europeo quindi fratelli d'italia all'interno della della propria coalizione diventerà di quella dei conservatori europei se i conservatori europei diventassero il quarto partito a livello europeo sarebbe un ottimo risultato al contrario se non avessero soprattutto in italia quindi un buon risultato elettorale inizierebbe a inizierebbe a esserci più pressioni soprattutto interne dai dai propri alleati si li bisogna vedere anche a livello di liste cioè di gruppi parlamentari del parlamento europeo perché ci ce ne sono diversi c'è chi è più a destra storicamente poi il parlamento europeo è sempre il grosso contenito il grosso la grossa fetta dell'emiciclo è occupata dal dal partito popolare che prende al suo interno un po mi verrebbe da dire quasi tutti però abbiamo visto ventate di di sovranismo in germania con alternative for deutschland scusatemi la pronuncia che nei secondi sondaggi prende piede sempre di più vedremo adesso con con fratelli d'italia anche perché appunto un buon messaggio per per la sinistra il presidente della repubblica ha fatto presente al ministro dell'interno trovandone condivisione che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento queste sono le parole del nostro presidente della repubblica sergio mattarella ma perché ne ha pronunciate caro ale proprio l'ultima frase ce lo dice insomma che i ragazzi manganelli esprimono un fallimento si riferisce a quello che è successo a pisa sabato scorso in una manifestazione di insomma esponenti di sinistra di a vario titolo in verità perché la lo slogan era soprattutto palestina libera ma poi come sappiamo in queste manifestazioni comunque rientrano varie varie rivendicazioni cosa è successo alcuni di questi manifestanti sono stati manganellati appunto sono stati colpiti col manganello da membri delle forze dell'ordine e le partite insomma la solita diatriba politica e in questo caso non solo perché comunque 15 poliziotti sono stati indagati o attenzionati dal dal ministero dell'interno questi ci sono ovviamente le solite due versioni diciamo la polizia dice che si stava difendendo da membri più eversivi diciamo che avevano rotto il cosiddetto cordone e questi membri invece questi manifestanti dicono che sono stati malmenati insomma senza un valido motivo ma che i poliziotti cercassero solo un un pretesto insomma per per sfogare la loro violenza i politici di destra hanno detto insomma difendiamo le forze dell'ordine forse qualcosa di sbagliato i politici di sinistra invece hanno subito detto che insomma inizia a essere insomma come dire dimostrazioni di del governo meloni che voglia che sia più intenzionato a riprimere il dissenso rispetto a governi precedenti c'è da dire che entrambe le posizioni sono faziose direi che sui politici di destra che difendono i poliziotti hanno difeso quelli di cucchi che hanno menato a morte cucchi che hanno menato a morte al drovandi direi che non non dobbiamo aggiungere nessun commento su novello aggiungiamo loro li difendono a prescindere anche di fronte a palesi violazioni di ogni diritto diritto umano diritto civile in questo caso non lo sappiamo però quindi non ci deve sorprendere la difesa allo streno delle forze dell'ordine ecco per quanto riguarda la sinistra sicuramente ha cavalcato questa insomma questa protesta questo fatto che è successo a pisa dimenticandosi che comunque il dissenso era represso così alcune volte anche con i governi conte col governo draghi quindi è un problema che la polizia italiana ha perché perché mancano i codici identificativi ovvero sono codici che permettono e anche bodycam quindi telecamere diciamo che le telecamere secondo me non ne parliamo neanche perché un'utopia non le vedremo a breve però il codice denti identificativo sarebbero delle insomma un codice alfa numerico che permetterebbe in queste situazioni concitate di guerriglia urbana possiamo dire da ferugli da ferugli esatto di risalire al al poliziotto al membro delle forze dell'ordine responsabile di ad esempio in questo caso aver usato il manganello ovvero magari c'è un poliziotto che lo sta usando effettivamente per difendersi perché è stato attaccato ma magari 10 metri più in là invece un altro poliziotto ne sta abusando del proprio potere in questo caso tramite questo codice identificativo presente in tutte le polizie europee tranne quella italiana si permetterebbe almeno di risalire al responsabile poi anche lì bisognerebbe vedere c'è il processo poi esatto esatto in italia questo non è il caso e ricordiamo che il reato di tortura è arrivato pochi anni fa insomma il clima comunque a prescindere dalla meloni al governo o chiunque altro sia non è non è insomma non è molto positivo per i manifestanti ricordiamo anche per sperando sia lontano insomma da quello che è successo il g8 di genova del 2001 che è stata definita la sospensione dei diritti umani più lunga in una democrazia occidentale per insomma per chi non lo conoscesse andate a cercarlo non abbiamo il tempo di descrivere guardatevi anche il film diaz esatto sono stati insomma due o tre giorni di totale sospensione dei diritti si è stato diciamo che anche qua quando uno va legge no guarda i video di questi avvenimenti non si fa un'idea molto chiara perché chiaramente le parti sono molto faziose da un lato ai manifestanti e i soliti le solite persone che su twitter magari mettono il video scandalistico giusto per fare un clic in più giornale anche i giornali purtroppo fanno così quindi insomma se guardi video sembra che i poliziotti stiano manganellando quasi a caso quasi giusto per sfogare se tu senti piante dosi e senti politici di destra ti dicono un'altra cosa opposta quindi insomma è fondamentale sicuramente un'indagine accurata e insomma che che mette che faccia luce su quello che è successo fermo restando che le manganellate la violenza per me ma come per ale come per tutte le persone nelle democrazie occidentali sia auspica almeno sia l'ultima l'ultima soluzione e infatti il nostro caro presidente della repubblica mattarella ce l'ha ricordato faceva notare ale pochi minuti fa che è molto molto interessante la nota del la frase del presidente della repubblica che dice ha fatto presente al ministro dell'interno trovandone condivisione quindi insomma è un po passivo aggressivo mi piace anche anche mattarella insomma si è reso conto che insomma usare questi manganelli va bene ma sono in situazioni estreme ecco e sia auspicabile non utilizzarli si due cose abbastanza raro che il presidente della repubblica reagisca così a caldo a un evento e che magari non lo faccia trapelare non lo so ad esempio una settimana tra una settimana in un evento pubblico in cui parla anche di questo qui è proprio chiaro inequivocabile l'altro fatto più politiche che comunque mi ricordo nel discorso di insediamento giorgia meloni aveva detto sarò contento di avere ragazzi studenti che esprimono il maschile anche la sarò contento no te lo dico perché l'ultimo episodio detto ragazze ragazze signore e signore come intervallo non ho che sarà contenta di vedere i ragazzi e gli studenti che esprimono dissenso verso nell'operato del governo di giorgia meloni perché le avrebbero ricordato lei quando era più giovane che insomma si esprimeva contro i governi incontro insomma si esprimeva per portare un cambiamento nel paese diciamo che era una cosa che nessuno le aveva pubblicamente chiesto non era in un'intervista lei esplicitamente e di sua spontanea volontà aveva detto questo quindi si era anche preso un impegno politico a insomma a vigilare su queste situazioni è una cosa che non è uscita tanto negli ultimi giorni non io ho questo ricordo perché mi immaginavo insomma quando ascoltavo il suo primo discorso su cosa di cosa avrebbe parlato mi aveva sorpreso questo fatto il solito nemico immaginario ha parlato un po' contro il solito nemico immaginario di della nostra presidente del nostro presidente esatto siamo precisi quindi insomma è comunque una una dinamica che va osservata sperando chiaramente che non che non ricapiti a breve però comunque tenendo conto che periodo questo periodo di sarà pieno di questo genere di manifestazione almeno finché le ostilità in medio oriente andranno avanti perché anche questo dibattito si è polarizzato senza dimenticare beh però quello è sempre polare dai è sempre stato polarizzato certo però adesso è più caldo per il solo fatto che le violenze sono riprese quotidianamente e insomma sicuramente siamo anche a 720 giorni di guerra dall'altro lato esatto e a proposito di quello probabilmente avremo approfondimenti nei prossimi giorni sul insomma sulla consola situazione più generale perché se vogliamo dare una breaking news sul campo non ci sono grandi novità no 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 lontani se non che comunque in verità la russia è pericolosa e la rimane molto pericolosa e insomma ne vedremo delle belle state connessi state sintonizzati sui canali di big news il volo da malpensa a berlino brandeburgo è atterrato sugli studi di radio bocconi cosa ci porta ci porta erba non possiamo dirlo in altro modo ovvero la germania ha approvato la legalizzazione delle droghe leggere della cannabis ed è il terzo paese nell'unione europea dopo malta e lussemburgo e insomma decisamente il più grande il più influente ed è una una grossa notizia per vari motivi il primo comunque è che è stato approvato su iniziativa del ministro della salute tedesco quindi già questo ci fa capire che comunque magari ci nasconde qualcosa il ministro della salute tedesco perché si nasconde magari anche lui ne fa uso capire potrebbe essere potrebbe essere non ci interessa lui ha detto no lui ha detto anzi che è un problema per la salute a proposito fino a che questo sarà un tabù fino a che la consumazione di cannabis sarà un tabù quindi è una una grossa notizia e va anche contestualizzato diciamo perché non ci sarà il turismo verso la cannabis che osserviamo in città come amsterdam che tra parentesi sta cercando di ridurlo con con varie misure e anche un altro tipo di turismo un po più ma questo non è non è magari ne parleremo un'altra volta e parleremo un'altra volta esatto giusto scusatemi se leggo ma è per dare le informazioni giuste la legge entrerà in vigore il primo aprile quindi tra poco più di un mese e autorizza tutte le persone con più di 18 anni ad avere con sé fino a 25 grammi di cannabis possederne fino a 50 grammi in casa e coltivarne fino a tre piante i limiti sono più bassi per le persone fra i 18 e 21 anni questo sempre perché comunque essendo una legge di stampo sanitario diciamo si cerca di proteggere la salute di coloro che vanno tra i 18 e 21 perché perché il cervello è ancora in nello sviluppo a questa età e il consumo di cannabis può causare danni allo sviluppo cerebrale l'altro dato importante ed è per questo che non ci sarà il cosiddetto turismo il cosiddetto quello creato io però insomma no ma non l'hai creato tu dai c'è il turismo ricreativo dai mettiamola così esatto è che la cannabis si potrà comprare consumare nei cosiddetti cannabis club di stampo catalano ma per iscriversi a questi cannabis club con un massimo di 500 membri bisognerà essere residenti in territorio tedesco quindi sì potete probabilmente cambiare la residenza e metterla in germania però ci sono varie altre implicazioni che è un po' più sì no diciamo che è differente il sistema rispetto a quello spagnolo catalano perché in spagna in catalogna si può avere la membership ai social club sono chiamati così anche se sei esterno scusatemi però insomma è un sistema interessante che come diceva bene Ale scoraggia anzi lo impedisce in teoria a meno che non ti sposti la residenza però con tutto rispetto caro mio saresti un po' un disperato però insomma scoraggia vivamente vieta questo tipo di turismo per cui vai in germania per farti delle canne però interessante interessante perché dicevamo prima anche in fuori onda che la germania o quando fa queste leggi le fa per bene cioè non è veramente una legge antiproibizionista che dice libera tutti no c'è comunque uno scopo dietro no un intento puro dio poi tu parlavi di sanità però secondo me non è così tanto sanitario è comunque ricreativo no sicuramente però tra i 18 e 21 anni ragazzo noi ti legalizziamo questa però sappi che fa male soprattutto sotto i 21 anni fa male perché come diceva Ale ci sono studi che dimostrano che insomma la cannabis non fa bene per lo per lo sviluppo allo sviluppo cerebrale quindi insomma te la te la legalizziamo però nei nostri limiti e evitiamo questo questo tipo di turismo però perché è importante a livello politico perché secondo me lo è essenziale a livello politico perché insomma soprattutto se questa legalizzazione va bene nel senso è di successo e poi anche lì il successo è in cosa una riduzione del numero di consumatori insomma anche lì dipende come si vuole misurare però insomma diciamo che se questa iniziativa fosse di successo sicuramente verrebbe replicata in molti paesi europei anche solo per il fatto a lungo termine però è secondo me anche medio comunque è medio di odiamo una quantità perché poi dipende dal governo anche la sicuramente da noi no 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 non direi che non illudiamo che sarà replicata a breve termine è stato approvato dal governo semaforo composto da SPD quindi social democratici tedeschi sinistra esatto i liberali quindi più di centro con idee di destra sul campo economico potremmo dire e gialli esatto i verdi verdi e no beh sì insomma però a parte gli scherzi la germania essendo lo stato più popoloso più influente dell'unione europea sicuramente i paesi limitrofi soprattutto guardano a questo questo esperimento questa nuova legge perché alla fine questo è e cercheranno comunque di secondo me di imitarla anche perché la germania secondo me tramite queste leggi ha cercato di evitare gli errori degli altri paesi errori a volte voluti o non voluti perché insomma la spagna potrebbe chiudere ad esempio la catalogna potrebbe chiudere questo diciamo questo sistema e non lo fa ma sì perché poi anche la catalogna si sviluppa questo questo sistema no dei social club è si sviluppa su sulla base di una zona grigia legale cioè non c'è scritto e anche l'olanda in verità perché in olanda non è legale la cannabis è tollerata infatti tra l'altro parentesi non troverete quindi questo vuol dire che non troverete coffee shop per le strade di berlino monaco insomma e no comunque avrà avrà un effetto politico importante secondo me è chiara la strada tracciata è quella di una depenalizzazione o legalizzazione delle droghe leggere nei prossimi 10 15 anni questo è innegabile a varie velocità con vari contesti comunque parliamo anche della francia ad esempio paesi in cui abbiamo vissuto non sono pronti non non sarà non direi non esatto però paesi vicini ad esempio mi immagino già ad esempio il belgio con lussemburgo che l'ha legalizzata la germania che lo sta per fare l'olanda in cui è depenalizzata sei circondato da sei circondato a sto punto tanto vale perché no a questo punto infatti no questo a tal proposito mi verrebbe chiedevo prima con ale lanciamolo questo 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 spunto di riflessione perché magari anche l'unione europea non dica qualcosa su questo c'è anche da dire che oddio l'unione europea in termini sanitari non ha tanto potere non ha di che di che dire non così tanto però insomma considerando l'andazzo degli ultimi cinque anni ma sai cosa sarebbe molto potente se la cannabis entrasse nel mercato comune europeo quindi a livello economico lì sarebbe sarebbe il gettito fiscale sarebbe importante non nascondiamoci allora secondo me è difficile anche a livello politico ne parlavamo prima comunque al governo dell'unione europea è sempre un governo di coalizione e non so se sempre popolare popolari socialisti e liberali quindi esatto popolari di centrodestra socialisti di centrosinistra liberali 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 vabbè dai con alcune idee di centrodestra soprattutto a livello economico e di centrosinistra a livello di diritti possiamo dire per semplificare molto e non so se i partiti di destra sarebbero contenti di andare a dire a livello nazionale abbiamo legalizzato depenalizzato la cannabis a livello europeo non direi però no è un comunque un tema da seguire che insomma di cui ci occuperemo vedremo anche come andrà insomma comunque questione di mesi anni non è che dal 2 aprile avremo i risultati no no infatti primo aprile entrerà in vigore esatto quindi insomma buona buona buon remarca no però vogliamo dare qualche dato su sui fumatori per dire perché magari detto così uno dice ma che si legalizza fare la germania stima che i fumatori attuali su 83 milioni di persone di cittadini tedeschi non cittadini residenti in germania circa residenti circa il 3 milioni stanno fumando si parla del due e mezzo per cento molto poco molto conservativo molto conservativo soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto i dati in italia siamo circa sui 6 7 milioni quindi insomma quasi un 10 per cento esatto anche quello non è non è da insomma non è da nascondere non è da considerare diciamo se la germania con 3 milioni o presunti tali su 83 riesce a portare avanti un processo che vuol dire che a 80 milioni di persone interessa poco o niente perché in italia con 6 milioni 7 milioni su 59 60 milioni non riusciamo ma non sono queste le priorità del governo ale sono sono queste sono sono altre cose direbbe a meloni sono questa domanda doveva rimanere con un silenzio e poi il taglio al prossimo speech adesso no notizia bomba di sicuro non ne avete sentito parlare nell'ultima settimana ultimo minuto ultimo ultimo minuto non ultimo ora fonti interne ci dicono che fedez e chiara ferragni sua moglie si siano lasciati possiamo ancora dire così però a quanto pare separati insomma separati lui pare che sia uscito di casa domenica scorsa e non vi sia più rientrato big news per il sociale per l'attualità ora lo sapete adesso no però secondo il sito di inchiesta dagospia è successo questo è stato è stato quel sito a dare la notizia bomba chiaramente sono stato il primo ad inviarla tutta milano per cui insomma mi sento di essere massimo esperto in questo no a parte gli scherzi adesso i ferragni hanno creato una sorta di impero negli ultimi negli ultimi anni quello è innegabile hanno anche condiviso a mio avviso ma sempre un mio avviso opinabilissima come opinione troppo della loro vita privata e adesso raccoglieranno i frutti che hanno seminato secondo le indiscrezioni fedez non ha supportato abbastanza sua moglie in questi momenti di difficoltà nel pandoro nel pandoro nel balocco gate comunque in ogni caso i processi sono ancora aperti stanno andando avanti non possiamo ancora noi siamo garantisti come abbiamo detto nella 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 puntata scorsa sulla formula 1 andatela a vedere sia se siete interessati sia se non lo siete per avere un contesto per avere un contesto però staremo a vedere in notizie fronte sport notizie fronte sport rugby veramente una buona notizia notizia agrodolce perché l'italia ha pareggiato in francia a lille 13 pari contro la compagine francese e ha avuto il calcio per la vittoria tra i piedi di tommaso garbisi mediano d'apertura dell'italia che però ha spedito questo pallone sul palo è una scena veramente triste peccato praticamente giusto in breve è come per fare un paragone come se avesse sbagliato il rigore all'ultimo minuto il rigore della vittoria all'ultimo minuto colpendo appunto il palo questo non è lo stesso lo stesso concetto poi il palo no che vibra che ti resta là esatto per tutta la vita no ci sono cliché di baggio che sbaglia vabbè comunque no è interessante perché la francia cos'è successo quest'anno cos'è successo in francia il campionato del mondo diretti che non abbiamo parlato non ha vinto però è stata una è stato un grande spettacolo siamo andati a seguirli in place della concorde io siamo insomma no sarei dovuto andare ma purtroppo pioveva tanto e niente no però una grande prestazione della nazionale italiana di rugby in uno sport che comunque anche grazie al successo del mondiale sta crescendo a livelli italiani non come il tennis perché insomma ne abbiamo già parlato con sinner dai esatto con sinner berrettini che torna berrettini che si è lasciato con la satta non abbiamo ancora detto non abbiamo ancora detto ma come io ho consultato insomma pareri femminili che parlano proprio come il maschio più bello che mi hanno detto sì sì vedrai che adesso che di nuovo single berrettini sarà fortissimo fortissimo ripeto pareri femminili da cui io mi dissocio assolutamente ma insomma sarà sarà da seguire tra l'altro tra poco iniziano il torneo per i nostri appassionati di tennis a indian wells in california uno dei più importanti dell'anno lì fuori degli slam che seguiremo con attenzione fuso orario permettendo magari anche con ale riva che spero che ci stia guardando su bar sport questa volta appunto l'altro esponente che non c'era con noi alla scorsa questa puntata ma molto appassionato anche gli di tennis e andrea riccio andrea riccio che salutiamo chissà se è arrivato fino in fondo a questa puntata però nel caso nel caso lo salutiamo magari perché no anche una bella puntata approfondimento che dite esatto perché no perché no direi siamo per l'ascolto se no questo flusso di coscienza potrebbe non finire mai su a parlare di così a ruota libera di sport vi ringraziamo per l'attenzione un saluto caloroso sempre con voi big news garo e ale ciao